Oggi andiamo a fare una di quelle che possono essere definite ricette basi, la crema al latte, la crema perché va bene per chi è intollerante alle uova, ma comunque anche per chi può mangiare le uova è molto molto buona. Mettiamo del latte in una casseruola, ce ne teniamo un pochino che ci servirà per sciogliere la fecola, mettiamo una bacca di vaniglia, lo zucchero, accendiamo il fuoco e portiamo a bollore. Mentre il latte è a bollore vado a setacciare la fecola e ci vado a sciogliere dentro il latte rimanente. Questa operazione naturalmente serve per evitare poi di avere grumi successivamente. Se volete, ma è assolutamente opzionale, andate ad aggiungere un cucchiaino colmo di miele. Una volta che ha preso il bollore, lo andiamo a filtrare e riponiamo nel fuoco. Se non volete naturalmente poi i pezzettini di vaniglia in giro, i semini di vaniglia in giro, mettete una busta di vaniglina, però ovviamente con la vaniglia vera è più buono. Sta bollendo e vado ad aggiungere la fecola e ora aspettiamo che la crema arrivi alla densità che vogliamo. Vedete, l'operazione è quasi immediata. Posso spengere il fuoco e a questo punto andiamo a togliere la crema. Questa è la crema al latte. È ottima per farcire delle torte, merendine. È una ricetta base che poi voi potrete andare anche a modificare aggiungendo l'arancia, il limone, un po' di vicore. Questa è la base. Buon appetito!